Proseguono le indagini della Guardia di Finanza e della Procura di Genova sui 48 milioni di euro di rimborsi elettorali della Lega Nord dal 2008 al 2010, per i quali sono stati condannati in primo grado per truffo Umberto Bossi e l'ex tesoriere Francesco Belsito. Questa mattina le Fiamme Gialle hanno compiuto un blitz nella sede della Sparcasse di Bolzano, la Cassa di Risparmio dell'Alto Adige nella sede milanese della stessa banca. Gli inquirenti in particolare stanno seguendo le tracce di 3 milioni di euro che sarebbero stati fatti rientrare in Italia dal Lussemburgo e che si sospetta possano essere legati a personaggi vicini alla Lega. Bossi e Belsito hanno fatto ricorsi in appello ma in caso di condanna definitiva scatterebbe la confisca di tutto il denaro rintracciato da Finanza e Procura.